Presentata dai consiglieri della Lega Oscar Aiello e Valeria Visconti, un'interrogazione sui finanziamenti europei persi a Valere sul PNRR, pubblicato nel 2022. Il Comune di Caltanissetta ha davvero perso 4,5 milioni di euro dei fondi PNRR? Faremo chiarezza in aula consigliare per accertare eventuali responsabilità, afferma il capogruppo della Lega Oscar Aiello. Tra i quesiti viene chiesto in cosa consistono i tre progetti non ammessi a finanziamento e se il Comune, si legge, ha davvero messo di rispondere alla richiesta inviata in soccorso istruttorio dall'Agenzia per la coesione territoriale. Si farebbe riferimento a dei progetti presentati dal Comune di Caltanissetta nell'ambito di un avviso relativo alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a Valere sul PNRR pubblicato nel 2022. L'interrogazione rivolta al primo cittadino verrà discussa durante la seduta di Question Time e sarà proprio in quella sede che arriverà la risposta da parte dell'amministrazione, così come ci ha spiegato il sindaco Roberto Gambino, contattato telefonicamente.